Questa mattina, d'improvviso, il sole. E noi ci abbiamo creduto nella speranza di un'estate senza fine. Giacca e pantaloni, uno sportivo classico della Cesare. Ci risiamo. Altra pioggia. Un imprevisto che si farà più frequente ora. Preoccupato dell'eleganza? Niente affatto. Il pantalone ha subito il trattamento piega permanente lana, garantito dal segretariato internazionale della lana. Con il nuovo trattamento piega permanente, la Cesare introduce la praticità nel suo concetto di eleganza. Cesare, una tradizione di eleganza.